È il caso Sallusti, allora avete seguito la vicenda durante il fine settimana, Sallusti prelevato dalla Digos, portato ai domiciliari, lui poi ha rotto i sigilli, si può dire è evaso e quindi come aveva preannunciato è uscito da casa, è evaso e dunque è stato arrestato, è stato fermato e riportato poi ai domiciliari. Questa volta invece il processo per direttissima ha detto mi impegno a rispettare scrupolosamente, volevo fare questo gesto dimostrativo ma ora mi impegno a rispettare tutto quello che devo rispettare anche perché sennò rischia un aggravio di pena. La novità è che il capo dello Stato come scrivono i vari giornali sta valutando se concedere la grazia a Sallusti. Napolitano valuta il caso Sallusti così titola per esempio a pagina 25 il Corriere della Sera appello per la grazia e il Presidente esamina tutte le ipotesi. Il Presidente della Repubblica scrivono Alessandra Coppola e Dino Martirano sta seguendo da vicino la vicenda giudiziaria del direttore del giornale tanto che anche di domenica il Quirinale si è lavorato per tentare di trovare una soluzione. Ne hanno parlato ieri pomeriggio Giorgio Napolitano e il Ministro della Giustizia Paola Severino hanno affrontato insieme tutti gli aspetti di un caso particolarmente complesso che richiede la responsabilità di tutti come ha definito con un tweet il portavoce del Quirinale su Twitter appunto Pasquale Cascella. E dunque c'è la possibilità della grazia tra l'altro c'è un interessante profilo di Alessandra Coppola sempre sul Corriere della Sera di Daniela Santanchè. Il grido di dolore di Daniela Santanchè che dice condannata tutta una famiglia passeremo il Natale da soli perché dice c'è una vittima collaterale di questa storia una donna imprenditrice politica e anche mamma che possiede una villa bianca a due passi dal corso dello shopping di lusso a Milano con i divani di velluto e i quadri d'autore che hanno fatto infuriare nella descrizione sulla stampa poi la stessa Daniela Santanchè e lei dice sarà vietato l'ingresso visto che è vietato l'ingresso a Sallusti sono vietate visite di estranei non posso far entrare gente della mia famiglia non posso far entrare mia mamma mio figlio di 16 anni non può far entrare i suoi amici non posso far entrare posso far entrare la russa perché è l'avvocato in questo caso avvocato di Sallusti ma non posso far entrare la moglie di la russa che è la quarta nelle partite di Burraco e come faranno? non giocheranno a Burraco questo Natale quindi Daniela Santanchè dice rimarremo da soli è un problema è un dramma ha detto non vuole appartenere Alessandro a nessuna casta di privilegiati io sono dilaniata tra il lato umano di sentimento e la posizione di rispetto nei confronti di Sallusti se ha detto voglio andare in carcere io devo essere al suo fianco rispettando le sue modalità l'amore è anche questo quanto alla grazia non tocca a me ma ad altri cosa ha fatto ieri ha visto un po' di tv ha visto le partite racconta Ignazio la russa che è passato a trovarlo di ritorno da San Siro e questo è un vero problema per esempio la quarta il quarto giocatore di Burraco che manca ora la moglie dell'avvocato la russa che non può andare a visitare Sallusti perché è un'estranea e dunque il giudice ha detto di no